È corsa contro il tempo per i lavori di adeguamento ferroviario tra Arona e Verbania, sulla linea Milano-Domodossola. Lavori che dovranno necessariamente effettuarsi in estate e che, essendo in parte finanziati con il PNRR, dovranno concludersi entro il 2026. È in sintesi quanto il deputato Alberto Gusmeroli riferisce dal colloquio avuto con l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, Giampiero Strisciuglio. Abbonati a soli 9,90 euro all'anno! Autosalone tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.